Terreni scontati per giovani agricoltori, fra boschi, seminativi e vigneti, la Banca Nazionale delle Terre Agricole, promossa da Ismea, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agroalimentare, ne ha individuati oltre 70 ettari soltanto nell'oltrepopavese nel territorio di 5 comuni, su un totale nazionale di 20.000 ettari. Il Bando per le Manifestazioni di Interesse, a cui possono accedere agricoltori sotto ai 41 anni di età, è stato pubblicato nei giorni scorsi e chiuderà a mezzanotte del prossimo 5 giugno. In provincia di Pavia la gran parte delle terre sono a broni, circa 50 ettari, nella fascia pianeggiante ad uso seminativo. Il terreno in questione, separato dall'autostrada A21, è in vendita a un costo totale di poco più di un milione di euro e nel pacchetto sono comprese anche alcune abitazioni e cascinali. 9 ettari di boschi e vigneti sono invece in vendita a 191.000 euro a Monte Calvo Versigia, in località Pissarello, boschi e vigneti in vendita anche a Borgopriolo, Rivanazzano Terme e Rovescala. Per partecipare gli agricoltori dovranno presentare domanda in via telematica, particolare non di poco conto. All'asta saranno ammesse offerte a ribasso fino al 35% del valore iniziale. Decine di ettari di terreni agricoli in vendita anche nelle province limitrofe, a quella pavese, in quella di Piacenza vanno all'asta 14 ettari di terreni in pianura, in quel di Castellarquato, in Alessandria invece si potranno acquistare 8 ettari e mezzo di seminativo e orticolo a Felizzano. 99.000 euro la base d'asta ma vista la regola del 35% si potrebbe partecipare già offrendone 34.000 circa. Chi al 5 giugno prossimo avrà inviato la propria manifestazione di interesse, essendo in possesso ovviamente dei requisiti necessari, sarà invitato quindi a partecipare all'asta vera e propria che si concluderà dopo altri 45 giorni.